Perché 3 yard Meno 3 lp Ma quale meno 3 lp ragazzi Questa è facile vittoria Ma che cacchio dite Ma mi commesso la rune Hello hello Allora Riproviamo a giocare questo Cheesy stupido champion Vediamo che cosa accade Sia blue che red smite erano fort Cosa giocavo? Blue o red smite? Entrambi credo Ma io red smite in Tria Cioè dipende un po' dalla build actually Giochiamo un game con blue Ehi la Ehi la Ehi la Devo mettere avanti il mondo del mix ragazzi Hai messo predator Senza ingenio center Dove sono le bets Un ludopatico Cerchiamo di aiutarti A guarire A questa situazione A uscirne Allora Dobbiamo per forza vincere ragazzi Allora Dove vogliamo startare Che vogliamo guncare Js è vulnerabile Mide vulnerabile E botta non tanto Viene a darmi una mania Che era iniziale Veramente patetico Ragazzi ma potevo prendere Scrivano Sarei stato felicissimo Invece mi vedete Per triplicare Sta cacata di champion Che non fa danni in giungla Pantheon non è utilizzabile Guarda i danni che fai in giungla Guarda Che è? Cioè Guardi i danni Guarda Muoio da red Legit Legit muoio da red buff E' patetico No ma proprio Guarda E' veramente Disastroso E' veramente disastroso Cioè Non riesce a clearare i campi Guarda quanta vita No E' veramente cringe Mountain Ragazzi No Mai più Mai più Ma perché non lo buffano poco Bello Cioè ho smiteato Ho stato le pozze E non ho vita Bello 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 Poi tra l'altro C'è da dire che la spell Lavo è praticamente Quindi dovrebbe essere Ottimale clearare Questo side Alla giungla Bello Bello Andiamo a devare Passerico l'into boots Ma se non è già Dobbiamo top Loro Kajig Sta facendo delle cose Mi interrompete Minion 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 Mi prego Minion Ok grazie Mi hanno scammato Però i campi Bot side Mi servirebbe Qualcosa Che qualcuno Controllasse Non lo so Forse è un po' tardi Ma quelle Polico A nivel di prima Ragazzi Perché non stiamo petando Abbiamo Nami Vabbè Io non ho parole Io ho il recoil Di vantaggio Non stiamo petando Ma chi se ne frega Ma tiriamo dritto Lui ha ancora il flash Ma va bene Non era Non era cancabile E avrei voluto Fedare allo scatto Lì Ho perso Precchio tempo Ho perso E parecchia vita Va bene Va bene Fa niente Comunque non è playable Assolutamente no Cioè sarebbe carino Perché Predator È bestiale Su di lui Però Come fai a giocare Senza pulire i campi Support Sì Support è forte Probabilmente Vabbè Tanto devi solo Ci sgancare Non devi fare niente Giochi support Come se fossi jungler L'unica differenza È che appunto Non hai bisogno Di fermare i campi Quindi è broken Per quello Ok Mid purtroppo Non ha malalux Ma poteva ti pare sul carretto Ma forse non c'era bisogno Effettivamente Bene Resettiamo un attimo Fabio non sarebbero stati male Qui Ho guardato Super deep Qui dietro Ho guardato Quel maledetto Serpente Tradda Tradda Vediamo questo Vabbè Ma così è Non è Non è il C'è Non l'ho ancora visto Denal Che comunque Ho guardato Che te ne fai Dei campi Quando puoi fermare i campi Campioni Overrated Ma immagina Vabbè Allora non potrebbero fare Sta roba qua Comunque Ok Ok Ecco Lo vado un attimino Bot con l'ultimo Guarda C'era proprio bisogno Che qualcuno mi coccasse Sul pantheon Grazie Grazie Spunzo Meno male Sono nuovo Nami Mi ha baffato Spero C'è 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 Kadix Karma ha flashato C'è Kadix No Ma c'è No ma c'è No ma c'è una ward No vabbè Lasciamo perdere Eh vorrei buildare E vorrei buildare Eclissi Sì Vorrei buildare Eclissi Ma penso di riuscire Prima Yumu Tanto è Ok comunque Oh grazie E' gentile Possiamo provare All'ingancare Bot Se non è wardato Tanto è il predator Per cui Karma senza flash Dovrebbe andare giù Vediamo Io credo Abbiamo wardato Qui Cazzo sta contro Un po' troppo tempo Bot forse Oh Ci stavo per andare Però Ho esitato Un attimino Ok 20 LMR Che useremo Bot di nuovo E Non so Blue smite Red smite In realtà Sono entrambi forti Spendo un po' Dalla build Cioè se navigo Guardrink Resterak Eccetera Allora Red sicuramente Meglio Se vai Burst Ecclissi Penso anche Blue vada bene Ex flash Anche carino Può essere carino Sì da giocare Pristana Credo non si sia resa Conta Per me lo potevano tranquillamente Ammazzare lì Senza aspettare la wave Grazie Grazie per lì Prova Grazie Gio Va bene Ma spesso Ma spesso Solo che Se ti diverti Poi su League In genere Perdi Allora Dipendere che dobbiamo fare Io ho la ulti Per la bot Dipendi Dipendi Spara Hai pure il buff Di Nami Hai Problema è che Se ti ho lasciato Uno è un disastro Di Nami Dovremmo averla presa, no? Ma guarda i dodge del polico Lux, devi... Ma sono... What? Sono morto così! Sono morto così! Ma would you win? Ma Lux hit una spell Ma poi è il flash Vai in avanti! Non lo vedi che lei non ha il flash Ha fatto flash R Lux, vai in avanti Fai i flash Hit una spell Uno slow Qualsiasi cosa Ed è morta Però io non pensavo di morire Dai però Abbiamo dato uno shot down gigante Beh è proprio quello che volevo Lux flashasse Così flasha, mette la E, slowa e poi si assicura itale la spell Ci siamo fatti outplayare dalla... Oh! Mi hanno scammato il red, maledetti Mi sa Il clinenziale è super mega lento Sì, è cringe, non è lento Ok Ok Eeeh... Va bene Due draghi Oh, che cattiveria Bravi Questa warden ha levato l'oro Bravi Le abbiamo questo Eeeh... Proteggi mi che Kha'Zix fa male Bene Ha haltato Dai qui un po' grivi Non so come mai stiamo charlando esperienze in quattro Mmm Credo ci sia Kha'Zix top Secondo io ho guardato Io non so se vinco, sai Vabbè, non l'abbiamo preso Dobbiamo fare anche il drago assolutamente 40 secondi Allora Va va, ma non dire sciocchezze Nidale ha un clear scaventoso Eeeh... Siamo nemmeno Purtroppo Eeeh... Non è contestabile, ragazzi Sage Abbiamo perso la dichiaria al momento Sbagliato Molto grave Surrender vota anche Perché ho votato surrender? Ho votato la mano ma l'ero... Cioè... Ho messo la mano ma l'ero meno accorto Ok Ok Non abbiamo preso due torrette, dai Potevano andare peggio, I guess Grazie, Magiron Grazie, 26 Io dovrei andare a comprare un po' di soldini Ce l'abbiamo l'eclissi, finalmente Yep Ci sono a ward Ci sono a ward Va bene così, ragazzi Abbiamo preso un po' di soldini Siamo la Yomo Andiamo verso su Se la Chesa... No, vabbè, no, niente Devo cambiare, boys Ok Ah, si è carina Dobbiamo fare qualcosa sulle sideline con la mia R Ok Stiamo facendo 1-3-1 Però è strano Cassio tra l'altro Sto a push anche E se a me dietro di lei c'è qualcun altro Cioè se push ancora È simpatica Cazissimo Possiamo fare baron Forse non possiamo fare baron Segg Proviamo Non è proprio safe Mi puzza d'int No, no Actually Bad idea Devo anche piazzare l'herald Ok Magari possiamo Possiamo fare l'herald Effettivamente adesso Forse Io ho messo l'herald Top ma Subito sia utile Almeno l'ho piazzato Adio Vabbè, dobbiamo stappare il Drake È più importante Credo mi serva qualche Oh, tanky item adesso Probabilmente andiamo a Gisterak Però c'è sempre la Blackiever Anche carina Andiamo a provare a fare questo Dragozzo No, no Non ce l'ho Non ce l'ho Maledetti Ora i loro poc Il problema è che io sono veramente squish Senza guardrinker Vorrei ingaggiarli di R Però Oh Oh i boh Non male Possiamo fare Anche Baron possiamo fare Bene Ci siamo ormai Perché non hai fatto Prowler Mi sembra da assassini Prowler Pantheon Cioè già Pantheon Giungla Mi sembra da assassini Poi Prowler Vieni Ringavec Oh Oh sì Terretto Nice Ciao Faber Salve salve Cosa vogliamo fare Vogliamo resettare Siamo in cerca di Cosa obiettivi Ciao Luca Morino Scoppiato Bene Devo Devo rimediare Anch'io Già Io avrei soldi per item Finalmente Prendo starac Siamo nel chilling Siamo Siamo anche un po' di tankiness Bene Bella Posa In realtà No Grazie Yuki Del fallo No Non posso Potevo restare mid Però volevo ammazzarli Magari li possiamo chiudere Abbiamo chiuso Alla fine No Ah Oh è morto Lucian Va bene Bene così Si fa davvero male Si Mamma mia Fuori di testa Grazie per il stampo Grazie Luca Ben tornato E buon dia Siamo Siamo Sì abbiamo veramente tanto range Abbiamo Poi c'è nami Poi c'è nami anche Che amplifica il danno Che è carina Oh Quasi No Era mio Vabbè ma perché Il campione è forte early game Per questo Cioè anche se non giungli Quando gank resta forte Quindi E lo so giocare comunque Anche se non lo giochiamo da un po' Io non arriviamo nami Non arriviamo nami Forse anche Anche jinx Si poteva ammirare Proviamo Proviamo Finché non si perde Lo possiamo provare a giocare Io voglio vedere se Voglio vedere per caso Se finisci behind Come cosa succede Con questo Pantone Che riesce a clearare la jungle Perché questo game Da head Faceva fatica a clearare